SEMIDI SEMIDI Buon poriggio. Bene. Allora, SEMIDI è un formal che è nato proprio qui a Malto, all'interno di questo festival, per parlare di questioni emergenti spesso, ma che, come dire, toccano molteplici interessi, sia economici, sociali, politici, culturali, ma anche la curiosità, ovviamente, l'interesse dell'opinione pubblica di capire che cosa sta succedendo nei territori di frontiera. Quello della carne coltivata è un tema, ovviamente, che ha generato un'ampia discussione, perché, ovviamente, può cambiare molto profondamente, insomma, degli scenari attuali. Quindi, capire che cos'è, come funziona, qual è lo stato del diritto e quali sono anche, diciamo, le regole che dobbiamo darci, come affrontare questa trasformazione, è uno degli obiettivi di questo festival. Quindi, cercare di fare chiarezza, ed è quello che cercheremo di fare adesso. Insomma, CMD è un format in costruzione, quindi negli anni cerchiamo sempre di continuare a divulgare, a fare comunicazione e a cercare di fare chiarezza. Ci sarà anche la possibilità di intervenire, di fare domande al termine di questo incontro. Come sarà strutturato? In due parti. Avremo due ospiti. Il primo, Michele Fino, che è professore di fondamenti del diritto europeo all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che ci chiarirà un po' quelli che sono gli aspetti di diritto, gli aspetti storici e normativi. E poi avremo una seconda parte con Luciano Conti, che è professore associato di biologia applicata presso il Dipartimento Cibio dell'Università di Trento, che, diciamo, collabora con l'Università a questa prima start-up italiana che si occupa di carne coltivata, che si chiama Bruno Cell, per capire qual è, diciamo, la ricerca scientifica che si fa in questi laboratori. Ecco, al termine di questi due interventi ci sarà poi possibilità di fare domande, di aprire un dibattito e un confronto. Quindi io faccio che introdurre il primo ospite, lascio il palco, invito a salire sul palco di Fondazione Spessio, Michele Fino, professore di fondamenti sul diritto europeo all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Benvenuto, Michele. Grazie. Prego. Grazie. Bene, questo inizio d'incontro ha un titolo roboante, titolo e sottotitolo, direi, perché nella viva carne... Ciao Dario, ben trovato, l'altra volta eravamo insieme su questo palco, è un piacere vederti. Nella viva carne perché cominceremo dalla storia. Il diritto è la sua storia, non esiste diritto senza la storia, non esiste la storia del diritto se è giuridica. Quindi partiamo cercando di essere... Ok, forse c'è qualcosa... Ok, muovono l'oro. Molto bene. La carne non è un alimento come tutti gli altri. La carne sin dall'antichità è un alimento che gode di uno status diverso da tutto il resto. Nelle principali, tra le tradizioni religiose del mondo, tra le più praticate tuttora, in tutte si trovano degli aspetti che riguardano la carne particolarmente interessanti. Ovviamente in un paese cristiano come l'Italia si ricorda sempre il magro della quaresima, tuttavia hanno tutti la conoscenza del fatto che il maiale nei paesi musulmani non si consuma o che naturalmente in India è molto difficile mangiare una costata di manzo, però vi ha ragioni. Però certamente il paese e la religione che ha dato di più alle regole e in particolare alle regole sulla carne è il diritto ebraico che è basato sia sulla scrittura sia sulla tradizione giuridica ebraica. Abbiamo 613 precetti alimentari per gli ebrei che sono divisi in tre famiglie. Quelle non sono ricette di cocktail, Mishpatim, Edot e Chukim sono tre suddivisioni che secondo i saggi giuristi ebraici riguardano i precetti, cioè li raggruppano in questi tre elementi. I primi sono i precetti che qualunque popolo razionale potrebbe avere. I secondi sono i precetti che sono fondati sulla scrittura ma che si possono ancora capire in modo razionale. I terzi sono i precetti, i Chukim sono i precetti che invece sono dati dalla scrittura e si accettano così come sono. Da capirli o non capirli fa lo stesso. Vacca, capra e pecora si possono mangiare, maiale, cavallo, cammello non si possono mangiare, i grigli e le larve non si possono mangiare, ci sono procedure di purificazione, le locuste di un certo tipo sì perché erano il cibo durante l'esodo nel deserto del Sinai e quindi quelli passano. Frutti di mare no, pesce sì, ma se ha la forma del pesce e ha le squame del pesce, perché se è un pesce gatto no. Quindi i laghi mantovani purtroppo non provvederebbero abbondantemente. E comunque niente latticini e carne insieme, perché quanto pare era il piatto nazionale dei filistei cuocere il capretto nel latte della madre, cosa piuttosto macra, poi dobbiamo dire, oltre che gastronomicamente incerta, ed è stato questo tradotto, non mangerai come mangiano i filistei, è stato questo tradotto in mai la commistione di latticini e carne. Quindi le famiglie osservanti hanno un servizio per la cottura dei latticini, quelle preparazioni che usano il latte, e un servizio per la cottura delle carni, separati rigorosamente. Questo ci dice del fatto che la religione è stata molto attenta alla carne, ma naturalmente poi, pur venendo il cristianesimo dalla religione ebraica come uno stem, se vogliamo, naturalmente col maiale ha avuto il suo bel da fare, perché il maiale in ambito romano era una carne fondamentale, per diverse ragioni. Aveva uno status particolare, aveva un'importanza politica, quando tutti sapete di Panem e Circenses, ma a un certo punto in Roma gli imperatori largheggiano al punto nei donativi alla plebe urbana, per cui c'è anche carosulla insieme al pane, cioè la carne suina viene distribuita gratuitamente in Roma. Quindi è veramente la carne dei romani, tant'è che Luganeghe e Carni Salate, che accompagnavano i legionari ovunque, hanno diffuso probabilmente la pratica di conservazione di carni del maiale in larga parte del mondo di allora. Soprattutto quello è un mondo nel quale si sono allevati gli animali in grandi gruppi, come poi non sarebbe più stato nel Medioevo. Infatti troviamo una interruzione di tradizione, poiché nel Medioevo invece i gruppi di animali non vengono più allevati in maniera così cospicua vicino alle grandi conurbazioni, tipicamente perché non ci sono le grandi conurbazioni nel Medioevo, anche Roma nel Medioevo ha qualche decina di migliaia di abitanti, avendone avuto più di un milione in epoca imperiale, e quindi si è tutto frammentato, anche il tessuto produttivo, e si comincia a mangiare più legato ai posti dove si vive, quindi con ciò che viene prodotto più prossimamente, in maniera regolare. Questo spezza tradizioni antiche, al tempo stesso mette a repentaglio il maiale selvatico, che fosse un maiale rinselvatichito, che fosse il cinghiale, questo nel Medioevo abbiamo bandi campestri pressoché ovunque che limitano la caccia ai grandi suini che vivono bradi. Questo perché i poveri cercavano di integrare la dieta e i ricchi amavano cacciare questo tipo di grande preda, che era probabilmente l'ultima grande preda rimasta. Così la carne esce dall'ambito della produzione di larga scala dell'epoca romana, abbiamo attestazioni nel secondo e terzo secolo di vere e proprie produzioni proto-industriali, che servivano ad alimentare il mercato di Roma e i donativi della carne suina in Roma, e diventa invece una questione di corte, nel senso della corte della cascina, della bassa corte, e soprattutto diventa una questione esclusivamente di ambito religioso. Non troviamo temi giuridici legati alla carne fino al XVIII secolo. Quando ricominciano ad esserci conurbazioni importanti, quando ricominciano ad esserci grandi numeri delle città, di cittadini, e quindi la legislazione pubblica si deve rioccupare della cosa. Non che mancasse prima un'attenzione, ma era un'attenzione specifica. Era l'attenzione di quelle arti che si occupavano della trasformazione della carne. Erano le corporazioni che si preoccupavano di queste cose. Ma non c'era un'attenzione diffusa alla salubrità dell'alimento carne, come invece diventa nuovamente necessario quando le città cominciano a diventare nuovamente grandi. E non è più il contado lì intorno che produce e col surplus della cintura alimenta la città, ma si creano veri e propri traffici alimentari che servono ad alimentare città via via, sempre più grandi. E naturalmente dove prima sono state più grandi, prima si è risviluppata una giurisdizione su questi alimenti. Pensiamo al mondo agglossassone e pensiamo ovviamente all'America. In Italia la questione si fa più rilevante in termini molto più vicini a noi. Meno di cent'anni fa, 1928, viene istituita con una legge di quell'anno, viene istituita la obbligatorietà dei macelli pubblici. Ora, voi pensate solo a tutte le volte in cui abbiamo storto un po' la bocca, visitando un paese dove abbiamo visto le persone che macellavano gli animali per la strada, oppure che esponevano in maniera che a noi non sembra così salubre i quarti di animali, e abbiamo ritenuto che quella fosse una cosa di una barbarie inaccettabile. Ora, calcolate che se nel 1928 è un reggio decreto a imporre la macellazione in luoghi controllati dal pubblico, e con eccezioni comunque, vuol dire che larghissimamente si macellava ovunque nel nostro paese e che naturalmente ci sono voluti poi ancora molti anni prima che tutto si riducesse al ricorso ai macelli controllati dalle autorità sanitarie pubbliche. Di pochi anni dopo, 1934, abbiamo per la prima volta il testo unico delle leggi sanitarie che comprende una sezione alimenti importante, in cui si fanno due distinzioni molto interessanti per noi. La prima è carni da consumare tal quale e carni destinate a uso industriale. Non la troviamo prima. La carne a uso industriale vuol dire la carne che va a fare dei trasformati che poi vengono venduti successivamente alla trasformazione. Questo implica che il consumo di carni trasformate non sia più un consumo locale per cui c'è un artigiano da cui io mi approvvigiono regolarmente, ma comincia ad esserci il grande mercato, la circolazione dei grandi prodotti. Succedeva già prima, nel 1700 i prosciutti di Parma andavano già a Londra, è attestato in ampia documentazione, ma una cosa sono le punte di diamante, le specialità che giravano quasi mitologicamente o per un upper class. Una cosa è il consumo di massa. Quando il consumo si fa di massa, la legislazione se ne deve occupare. Per quale motivo? Banalmente perché se c'è qualcosa che non va, il danno non è per pochi ghiottoni, il danno è per migliaia, se non per milioni. Quindi questo testo unico distingue le carni da consumare tal quale e le carni invece che devono essere trasformate in modo industriale. Ma soprattutto aggiunge considerazione specifica per sughi, dadi e si parla di congelazione. 1934, ovviamente non parliamo di congelazione domestica, parliamo di congelazione esclusivamente in impianti industriali, all'epoca un frigorifero costava come un'autovettura, tuttavia la legge se ne occupa già, perché è già evidente che una congelazione incerta nel tempo, nella durata e soprattutto nella continuità è un grave problema di carattere sanitario. Con queste regole andiamo avanti piuttosto bene fino agli anni Ottanta, quando negli anni Ottanta succede a livello europeo una cosa inaspettata. In Gran Bretagna cominciano ad aumentare drammaticamente i casi di una malattia che in sigla si chiama BSE, in italiano si chiama encefalopatia bovina spongiforme e che tutti però conoscono come la mucca pazza. Conoscono, più o meno conoscono, perché i più giovani tra noi non l'hanno mai sentita. Nel 2014 in Italia ci sono stati 14 casi di mucca pazza, nel 1996 ce n'erano 2600. Perché la mucca pazza è una zoonosi fortunatamente debellata. La causa di questa zoonosi è tuttora discussa. Ci sono stati diversi studi che hanno approvato delle associazioni tra cui il consumo di farine animali da parte dei bovini. Ma non c'è una voce definitiva su cui c'è il consenso prossimo all'unanimità del mondo scientifico. Quello che però sappiamo è che il consumo di carne contaminata da ciò che può trasportare il fattore di contagio della mucca pazza, ovvero il materiale spinale, da parte degli umani, espone a contrarre il sindrome di Kreuzfeld-Jakob, che è una variante di questa malattia che colpisce gli umani e che può andare ad interessare dei soggetti molto giovani rispetto a ciò che accade normalmente con la sindrome di Kreuzfeld-Jakob, che esisteva già, si conosceva già, ma era considerata una patologia degenerativa, neurologica, soltanto della popolazione anziana. Ora, che cosa accade? Accade che l'associazione nel 97 di mucca pazza alla sindrome di Kreuzfeld-Jakob causa il crollo verticale della vendita di carne di manzo in Europa. Ma il crollo verticale vuol dire che da un giorno all'altro è un fuggi-fuggi dalle macellerie, un ricorre nuovamente al maiale di cui prima, e al pollo, che sono visti come salubri, nel senso che non sono colpiti da questa malattia, e si diffonde una sfiducia colossale presso i consumatori. Si diffonde anche un morbo istituzionalmente molto pericoloso, perché abbiamo in Europa una divisione dei paesi del mercato unico che si danno ognuno, come dire, ognuno per sé e Dio per tutti. La Francia chiude le frontiere nei confronti da Gran Bretagna, l'Irlanda del Nord chiude le frontiere nei confronti da Gran Bretagna, nel nostro paese gran parte della pubblicità dice mangiate il manzo italiano che è sicuro, qui la mucca pazza non c'è, almeno fino al giorno in cui non abbiamo trovato il primo caso, e poi il secondo, e poi il terzo, e poi il quarto, e via così. Perché in realtà il morbo circolava e come tale non c'era il paese al sicuro. Quando è passata questa buriana, l'Europa ha tratto la lezione e si è data le leggi sulla carne e sulla tracciabilità degli alimenti che tuttora reggono il nostro sistema. Il regolamento 178 ha imposto tracciabilità e HACCP a tutti i produttori alimentari, indistintamente. Ha anche creato il sistema di allarme rapido, per cui oggi un allevatore che ha una vacca malata non pensa, me ne devo disfare in fretta, ma pensa, se lo denuncio immediatamente, ho la garanzia di avere dei ristori economici. Quindi non sto rischiando di andare sull'astrico, quindi devo cercare di sbarazzarmi senza fare troppo rumore. del problema. Non funziona ancora tutto benissimo, ma è certamente molto meglio di prima, quando la polvere sotto il tappeto era un po' la regola. I regolamenti 853 e 854 del 2004 hanno completato il quadro e quindi grazie a questo possiamo dire che in un certo senso la BSE ha fatto l'Europa dal punto di vista di HACCP, tracciabilità e rintracciabilità. ha anche dato un impulso nazionalistico. Io faccio purtroppo sotto questo profilo una debolezza, perché in allora per rilanciare il consumo di manzo si disse dobbiamo dire dove nasce, dove cresce, dove viene macellato. Oggi questa è la regola per tutte le carni tal quali in base al regolamento 1169 del 2011. Non è stato benissimo, perché sapere da dove viene è una bella cosa, ma sapere come viene allevato, prodotto, macellato, conservato dovrebbe contare di più. Invece noi abbiamo una tendenza a semplificare, quindi quando sappiamo da dove, insomma, può sparei, non chiediamo altro. E così, con questo quadro giuridico, veniamo alla carne dopo la carne. La carne dopo la carne è nata proprio negli anni in cui abbiamo messo a punto il sistema di sicurezza che vi ho raccontato prima. Mentre nel mondo si metteva a punto questo sistema, nascevano i nuovi trend di consumo che hanno diversi driver. Il primo è aumentiamo di popolazione sul pianeta, non in questo stretto paese, ma in pianeta in termini generali sì, abbiamo bisogno di fonti proteiche alternative. Il secondo driver sono le questioni etiche, meno religiose di un tempo, più invece attente al fatto che gli uomini possono rapportarsi agli animali diversamente rispetto a come hanno fatto in precedenza. Prima non era un punto di vista discusso, almeno a livello di massa. Terzo, le questioni ambientali. Comincia ad emergere la consapevolezza che l'allevamento, dal punto di vista ambientale, non è necessariamente la migliore soluzione. Nasce così la carne vegetale. La carne vegetale non nasce lì, attenzione. Io ho diviso una cosa che, adesso Dario mi picchierà sulle dita per questo, però ho fatto, questa è un'invenzione. Ho diviso la carne vegetale per poterne ragionare in quattro tipi. Prima c'è stata la carne che era in realtà un vegetale presentato come carne, magari la bistecca. Ecco, il capomagro in realtà è pesce in buona parte, però sai cosa pensavo io? I vecchi dalle mie parti, quando i funghi c'erano perché pioveva di più, adesso poi in questi giorni pioveva anche adesso, però quando pioveva tanto, tagliavano la coppa, la impanavano e la friggevano e si mangiavano quelle come la bistecca dei poveri. Oggi costa di meno la fettina, lascia fare. Però era vegetale presentato come se fosse la carne. 1.0, ma li ho mangiati anche io degli hamburger fatti di lenticchie, semplicemente lavorate, cotte e poi messe nella forma di un hamburger, insaporite, fatelo piacere, è il vegetale al posto della carne. Il 2.0 viene da altre tradizioni culinarie, ma è millenario. Sono il tofu, il seitan, cioè l'estrazione della proteina da una matrice vegetale, trasformandolo in qualcosa che poi posso cucinare come la carne. E fin lì diciamo che siamo nell'ambito del fortemente tradizionale, cose che non abbiamo dovuto testare. Il seitan, quando è arrivato in Europa, non ha dovuto passare i controlli che deve passare oggi un novel food. Ok? Invece la carne 3.0, ebbè quella è stata la grande novità. Adesso autorizzata, il vegetale 3.0 sono le proteine, prima della soia e del pisello, oggi pressoché solo del pisello, denaturate e trasformate con un processo che utilizza anche della molecola M ricavata attraverso dei lieviti modificati in maniera geneticamente, riesce a ricreare dei pezzetti di materia che hanno alla cottura una resa estremamente simile alla carne. Per cui quando tu addenti un Beyond Burger, un Impossible Burger, hai la sensazione di stare mangiando della carne, ma è 100% di origine vegetale. Quindi non c'è coinvolgimento di animali, non ci sono ovviamente derivazioni dell'allevamento in qualunque forma. Il tipo 4.0, che ad oggi sul mercato non è reperibile, almeno per quello che so io, è invece la proteina di cui abbiamo parlato, cioè il 3.0, la proteina vegetale che mi permette di costruire degli hamburger che sembrano hamburger, utilizzata in stampanti 3D. Con queste faccio delle stampe di bistecche, faccio delle stampe di braciole, faccio delle stampe di entrecote, che poi posso cuocere come se fosse un taglio anatomico, perché ad oggi la tecnologia 3.0 mi dà dei pezzettini, ma non mi permette di fare il taglio anatomico. Allora, due start-up, una in Israele che si chiama Redefine Meat e l'altra in Catalunia che si chiama Nova Meat, lavorano esattamente su questo, fare dei layer di proteine vegetali che all'apparenza e al gusto ci diano l'esito di una bistecca. E poi c'è la carne coltivata davvero, di cui parleremo subito dopo. Perché coltivata davvero? Beh, intanto perché c'è uno slogan dalle mie parti di allevatori, di vacca bovine piemontese, allevata grass-fed che dicono coltiviamo carne. Ora, questo slogan con la cultured meat va un po' in crisi, però effettivamente rende l'idea dell'animale che viene allevato esclusivamente con quello che si produce in azienda. Tuttavia, la carne coltivata che viene impropriamente, molto impropriamente chiamata sintetica dal mio punto di vista, perché se vogliamo proprio essere un po' filologi, quando parliamo di sintetico in italiano intendiamo che con una molecola ne abbiamo sostituita un'altra. La seta sintetica è una molecola che deriva dalla sintesi di materie petrolifere e mi dà un risultato di un filo, di un filato che mi imita la seta. Quindi una molecola al posto di un'altra. Se dobbiamo chiamare carne sintetica qualcosa, in realtà dovremmo chiamare la carne vegetale sintetica, perché lì è una molecola che ne sostituisce un'altra, che fa la funzione. Niente di male in tutto questo. Però, invece, quando parliamo di carne coltivata parliamo di cellule staminali, sarà detto molto meglio dopo, che vengono prelevate da un animale in vivo con una biopsia, fatte crescere in un bioreattore, moltiplicare a formare dei pezzetti e quindi permettere di realizzare degli hamburger, per realizzare delle salsicce e naturalmente andando a produrre quella che è biologicamente carne, ma non deriva dalla macellazione di un animale. Il che è il grande tema regolatorio di questi ultimi anni. Perché? Perché innanzitutto le persone, sentendo parlare anche allarmisticamente di carne sintetica dicono ma mi trovo nel piatto qualcosa che non so di star mangiando ed è stato creato in maniera che non conosco? Beh, intanto ad oggi no, perché non ci sono processi on going di autorizzazione richiesti da singoli produttori per carne coltivata all'interno dell'Unione Europea. E il processo è inevitabile nel senso che se vuoi vendere in Europa qualcosa che non era presente sulle tavole degli europei prima del 1993 1997 devi farti tutta la trafila non puoi bypassarla quella trafila motivo per il quale quando qualcuno avrà il processo appunto per ottenere l'autorizzazione chiederà di cominciare questo processo presenterà la documentazione all'EFSA l'EFSA farà le sue ricerche indipendenti e darà un parere alla Commissione Europea la quale alla fine dirà se è ammesso o non ammesso questo è esattamente il meccanismo immaginato dopo Muccapazza cioè esattamente il meccanismo nel quale abbiamo il risk assessment fatto da EFSA seguito dal risk management fatto dalla Commissione Europea perché della decisione politica si devono prendere responsabilità i politici del parere scientifico si deve prendere la responsabilità un pool di scienziati come quello che lavora per EFSA quindi il regolamento 327 che è basato su quello del 97 ecco perché il 97 è un po' la data d'inizio di tutto questo che è in piena Muccapazza dice se un cibo nuovo deve arrivare sulle tavole degli europei deve aver passato questo doppio meccanismo il meccanismo dell'assessment e poi del management il parere di EFSA deve esserci dopodiché la Commissione può anche decidere diversamente da cosa ha suggerito EFSA questo deve essere chiaro altrimenti la decisione politica non ci sarebbe più ma la decisione politica non ci può essere se non c'è stato il parere di EFSA quindi le due cose devono stare in un rapporto di bilanciamento perché evidentemente se tu prendi una decisione politica scientificamente infondata perché EFSA ti dice che la tua decisione è infondata evidentemente ti assumi una responsabilità estremamente importante che qui non abbiamo modo di andare ad indagare oltre però possiamo concludere questa breve presentazione spiegando perché siamo andati dal Levitico che insomma è dove si stabiliscono una gran parte delle regole dette prima della casherut ebraica e se finiamo in Louisiana ma anche in Francia ma anche in Italia la Louisiana è un posto nel sud degli Stati Uniti che è il primo bacino di produzione di riso degli Stati Uniti ed è un posto fortemente agricolo nell'ambito degli Stati Uniti d'America nel 2019 il parlamentino della Louisiana ha lanciato approvato una legislazione che si chiama Truth in Labeling Act cioè una legge pubblica per la verità sulle etichette che suona già verità sulle etichette è già potente che cosa prevede questa legge? prevede che tu non puoi usare nessun termine tradizionale della carne per riferirti alla cultured meat o per riferirti alla carne vegetale quindi inventati delle altre parole ma addirittura stabilisce che non si può usare neanche la parola l'inglese rice per riferirsi a qualcosa che non sia basato su rice rice è riso la Louisiana primo produttore degli Stati Uniti siccome negli Stati Uniti in gran parte i supermercati si trovano verdure tagliate a pezzettini piccolissimi che chiamano rice veggies rice quindi fanno il participio passato di rice hanno vietato la vendita in Louisiana di rice cauliflower per esempio che si può risottare perché quello non è riso e quindi fa una competizione illegale con i produttori di vero riso della Louisiana voi ridete hanno riso anche gli americani hanno detto aspetta solo la prima volta che vado avanti una corte federale la corte federale li ammazza perché sulla base del caso Williams dirà che violano la libertà di espressione quindi violano l'emendamento della Costituzione americana il secondo che garantisce libertà di espressione a tutti i cittadini e invece hanno vinto il 24 di aprile la Louisiana ha vinto davanti a una corte federale adesso si vedrà se vanno davanti alla corte suprema e è rimasto in vigore il divieto di usare queste parole in Louisiana voi direte vabbè ma è la Louisiana dai un posto no Mississippi burning cosa del genere mica tanto l'anno scorso la legge analoga l'ha votata la Francia che l'ha votata a proposito dei tagli di carne dei nomi delle carni che non si possono usare per le produzioni vegetali e l'Italia l'ha incardinata il 17 di marzo al Parlamento una legge che con l'obiettivo della tutela dei produttori di carne italiane vieta queste cose ma noi possiamo davvero inventarci un set di parole tutte le volte che arriva un cibo nuovo e soprattutto non possiamo utilizzare le parole che le persone conoscono già qui usciamo dal diritto e entriamo in altro grande ambito il grande ambito è quello della cultura in generale tutti noi usiamo il burro di cacao non pensando che abbia a che fare con i bovini però d'altra parte il nostro legislatore nel 97 ha deciso che le parole come latte burro panna formaggio yogurt kefir le usano solo i produttori lattiero caseari e non le può usare invece chi fa una bevanda bianca a base di mandorla in generale poi l'Italia ha ottenuto la sua eccezione per il latte di mandorla ma ad esempio chi la fa di avena la deve chiamare bevanda di avena chi la fa di soia la deve chiamare bevanda di soia non la può chiamare latte di soia quindi come vedete bene il nostro diritto in questa fase storica si trova stretto tra le esigenze di modernità da un lato e la voglia di tradizionalità dall'altro sia che sia voglia di tradizionalità per essere rassicurati sia che sia voglia di tradizionalità perché quello è il mio bacino di vendita e non me lo dovreste cortesemente rovinare vedremo come andrà avanti l'absoluzione dal punto di vista del giurista non esiste perché tanto il diritto è sempre il punto di incontro tra ciò che vorremmo che la società diventasse ma anche ciò a cui la società in cui viviamo è preparata in questo momento molte grazie della vostra attenzione grazie 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 Michele grazie molto e questa era la prima parte adesso c'è la seconda parte quella scientifica più legata all'aspetto biotecnologico quindi invito a sé sul palco Luciano Conti benvenuto a te la slide buongiorno a tutti io mi occuperò della parte più nuova quindi la carne definiamola 5.0 proseguendo sulla numerazione quindi l'ultima generazione di carne è un prodotto che fino a pochi mesi fa non conosceva nessuno è diventato famoso in Italia grazie a un dibattito che è stato acceso negli ultimi due o tre mesi ed è stato gestito in modo forse poco adeguato e alla fine della mia presentazione vorrei proporre invece di seguire una via che permetta veramente di avere un dibattito ragionare sulle cose e arrivare a delle conclusioni e a delle strategie condivise ok quindi questo è quello che vorrei alla fine proporre allora iniziamo dicendo che abbiamo un problema Houston abbiamo un problema allora noi abbiamo raggiunto circa 8 miliardi di persone sulla terra è un traguardo storico che abbiamo raggiunto alla fine del 2022 alcuni dicono all'inizio del 2023 comunque fatto sta che la popolazione ha raggiunto un numero molto molto elevato e come ben sapete la popolazione ha bisogno di cibo questo aumento graduale di popolazione e consumo di cibo si è evoluto negli anni con come vedete qua in un aumento molto elevato del consumo di carne questo è quanto veniva consumato all'inizio degli anni 60 e questo è quanto viene consumato più o meno adesso vedete che sono aumentati in modo molto molto elevato il consumo di pollame di carne suina e di bovini quindi gli animali che vengono consumati sono moltissimi molti molti di più di quanto accadeva 50 anni fa 60 anni fa e il problema grosso è che per sostenere questi animali che noi mangiamo usiamo per la nostra nutrizione c'è bisogno di nutrirli sostentarli per cui questo ha portato a un uso di quello che è il suolo del nostro pianeta il suolo diciamo utilizzabile del nostro pianeta per la maggior parte per sostenere la crescita e l'allevamento di questo enorme numero di animali il problema grosso è che siamo arrivati a un punto in cui se come vedremo la popolazione prevista è ancora in aumento dovremo utilizzare ancora più risorse del nostro pianeta solo per allevare e nutrire gli animali che serviranno per nutrire noi questo è un circolo vizioso naturalmente come potete immaginare e l'altra diciamo notizia un pochino così deviante è il fatto che come vedete qui circa il 77% del terreno ad uso agricolo per l'allevamento del bestiame per il sostentamento del bestiame risulta soltanto in circa un 20% delle proteine che vengono utilizzate per cui noi utilizziamo gran parte del terreno agricolo per sostenere gli animali farli crescere dopo macellarli e mangiarli però il loro apporto alla nostra dieta è soltanto un quinto quindi questo è un dato che deve far riflettere l'altro dato che deve far riflettere è che gli animali di allevamento hanno superato hanno surclassato in numero molte molte specie per cui potete vedere qui ad esempio a livello dei mammiferi il bestiame rappresenta circa il 62% di tutti gli animali presenti sul nostro pianeta noi rappresentiamo circa il 34% circa metà di quello che è costituito dal bestiame se come vedete qui gli animali selvatici che rappresentano la biodiversità sono stati ridotti veramente a una briciola di quello che è la vita e la biodiversità sul nostro pianeta al contempo se guardiamo quello che accade nel campo volatili anche qui vedete che 71% degli animali dei volatili che sono presenti sul nostro pianeta sono animali sono pollame quindi polli e altri volatili che noi utilizziamo come cibo quindi questo ci fa capire veramente fin dove si è spinto l'utilizzo di questa tecnologia di allevamento di animali per creare cibo per l'uomo come vi ho detto il problema è grosso perché adesso siamo 8 miliardi però queste sono le stime vedete nel 2030 saremo 8 miliardi e mezzo nel 2050 saremo quasi 10 miliardi e tutto questo crea delle stime di consumo di carne in aumento vedete qui il consumo attuale e questo è quello che è stimato come utilizzo di carne consumo di carne necessità di carne nel 2050 questo pone naturalmente delle domande è giusto mangiare così tanta carne su questo molti nutrizionisti convengono che non è il caso bisogna ridurre il nostro consumo di carne quindi ridurre il consumo di carne e sostituirlo con prodotti vegetali è un'opzione però è un'opzione che non sappiamo quanti si sentiranno di fare quindi il problema sta nel fatto che bisogna trovare delle alternative altrimenti il nostro pianeta arriverà a un punto di collasso di non sostenibilità vedete qui quello che succede adesso l'allevamento intensivo è il principale elemento di consumo di acqua sul pianeta si consumano veramente litri migliaia di litri di acqua per avere un chilo di carne di bovino quindi l'acqua è una risorsa che sappiamo essere molto preziosa vediamo che ce n'è sempre di meno in questi giorni forse ce n'è un po' troppa tutt'assieme però le stime e le diciamo le previsioni per quello che è non domani cioè non il 21 maggio ma stiamo parlando di 15 20 anni vanno tutte in direzione di una grossa diminuzione di questa risorsa e inoltre l'allevamento intensivo stiamo parlando a livello globale stiamo parlando di allevamento intensivo non vorrei che venisse diciamo frainteso il concetto di allevamento come allevamento anche delle mucche dal peggio o del contadino che ha quei 20 capi di bestiame qui stiamo parlando di allevamento intensivo che chiaramente ha dei numeri e dei consumi e delle impronte sul nostro pianeta che sono di un altro di un altro livello quindi vedete che l'allevamento intensivo è responsabile di gran parte delle emissioni di gas serra soprattutto per quanto riguarda ad esempio il metano che è uno dei più potenti gas che causa riscaldamento a livello della nostra atmosfera e il processo che viene utilizzato attualmente per coltivare come si diceva prima o per allevare gli animali che dopo finiranno nei nostri piatti è altamente altamente inefficiente dobbiamo dare loro tanto cibo per avere alla fine poco cibo noi quindi in proporzione si investe a livello di risorse moltissimo nell'allevamento per avere alla fine nei nostri piatti una scrematura e non avere una resa che sia proporzionale e adeguata e inoltre abbiamo detto dell'uso dei terreni agricoli e inoltre ci sono aspetti quali ad esempio le zoonosi quindi la mucapazza la viaria quindi parliamo di malattie con le quali abbiamo iniziato a confrontarci e che capiamo quanto possono essere impattanti a livello sociale economico e globale per quanto riguarda la nostra società e soprattutto nel consumo di antibiotici nell'allevamento intensivo si calcola che tra il 50% e il 70% degli antibiotici prodotti vengono utilizzati in quel settore naturalmente l'utilizzo di tutti quegli antibiotici negli allevamenti intensivi può portare a problemi a noi come esseri umani nella cosiddetta antibiotico resistenza ok allora alternative alcune alternative sono state prospettate si può parlare di hamburger di tipo vegetale vedete questo è un Beyond Meat è un prodotto totalmente vegetale che è già nei supermercati ed è presente anche in molte catene di fast food negli Stati Uniti da qualche anno ormai e si parla di diciamo prodotti derivanti dalla fermentazione ossia della crescita di lieviti dalla crescita di batteri dalla crescita di microrganismi che vengono cresciuti in bioreattori i microrganismi hanno delle caratteristiche che le rendono molto appetibili dal punto di vista della resa perché consumano poco e convertono quel poco che consumano in biomassa in modo molto efficiente e ci sono già dei prodotti di questo genere che sono prospettati io mi stoffermerò su quella che è la carne coltivata che diciamo è l'argomento di discussione molto molto dibattuto in questi ultimi mesi allora quando parliamo di carne coltivata parliamo di carne vera noi quando mangiamo carne mangiamo cellule i nostri tessuti sono fatti di cellule siamo esseri pluricellulari siamo composti tutti di cellule e oltre alle cellule c'è del tessuto connettivo e altri elementi comunque la nostra composizione principale è cellule nella carne quello che sono presenti sono presenti le cellule che formano le fibre muscolari quindi noi in quanto pluricellulari siamo composti di cellule e quando mangiamo della carne di un animale mangiamo appunto delle cellule di tipo muscolare di tipo adiposo e assieme a del connettivo un po' di sangue dell'osso e così via la carne coltivata è in pratica basata sullo stesso elemento è basata sull'utilizzo delle cellule quindi si può parlare effettivamente di vera e propria carne quindi non è che è un qualcosa di sintetico creato in laboratorio partendo da sostanze chimiche che vengono mescolate e in modo alchemico si tira fuori una bistecca è un prodotto che deriva dalla crescita delle cellule dove si trova? qui potete vedere alcuni prodotti che sono a livello di prototipo alcuni sono già in vendita in alcuni paesi che possono riprodurre ad esempio la carne di manzo utilizzando le cellule del bovino o la carne di pollo utilizzando le cellule del pollo o l'anatra o i gamberetti il salmone e il tonno quindi potenzialmente si può creare carne coltivata da qualsiasi specie ok? allora come si crea la carne coltivata la carne coltivata ha naturalmente per essere generata ha bisogno di un punto di partenza il punto di partenza non viene creato dal nulla dai biologi nei laboratori ma viene prelevato da una piccola biopsia parliamo di pochi millimetri cubi di muscolo di carne di un animale qui c'è il bovino come esempio e come vedete nel tessuto del bovino ci sono tanti tipi di cellule tra tutte le cellule che sono presenti quelle che sono importanti per dopo creare la carne coltivata in laboratorio sono le cellule staminali le cellule staminali sono delle cellule che si occupano di rigenerare il muscolo o gli altri tessuti quindi sono delle cellule che hanno la proprietà intrinseca di poter crescere e di poter convertire loro stesse in muscolo e grasso in questo caso quindi sono le stesse le stesse che ci sono all'interno dei muscoli della carne animale queste cellule staminali devono essere isolate da tutte le altre cellule presenti devono andare incontro a questi processi che si chiamano di crescita cellulare la crescita cellulare avviene in bioreattori che sono dei grossi contenitori si parla di 1200 1500 anche 2000 litri di volume che può essere contenuto e al loro interno cosa c'è? ci sono in pratica cellule che sono in fase di crescita di espansione assieme a delle sostanze che servono alle cellule per la crescita sono le stesse sostanze che sono presenti all'interno del tessuto le sostanze per far crescere i tessuti arrivano tramite il circolo sanguigno le stesse sostanze si possono inserire nei biorettori in questi liquidi di coltura e permettono alle cellule di crescere e la crescita è molto efficiente e vedremo alcuni esempi e una volta che abbiamo avuto il nostro diciamo bel bacino di cellule staminali che sono cresciute cosa si fa? se ne prende una parte e si prende questa parte e si trasferisce in una condizione di crescita in un altro biorettore dove sono presenti delle sostanze che non guidano la divisione delle cellule quindi l'aumento del numero delle cellule ma guidano la conversione delle cellule staminali a muscolo oppure a grasso oppure in combinazione quindi in questa fase le cellule vengono differenziate e dopo si passa quando tutto è pronto a un assemblaggio del prodotto finale che può avere diverse forme quindi può avere la forma di bistecca di burstel può avere la forma di crocchetta di pollo e così via quindi vedete qui io amo definire la crescita delle cellule in queste condizioni come la creazione di quello che è il lievito madre qualcosa che viene mantenuto sempre e quando serve se ne prende un po' e lo si usa per fare il pane quindi il paragone può essere questo giusto per semplificare il processo naturalmente quello che adesso è un po' il limite è che da una singola biopsia si possono ottenere 5.000 kg di carne quindi è già un grosso numero un grosso quantitativo di carne che si può ottenere semplicemente da una biopsia di pochi millimetri cubi di carne naturalmente questo è un è un processo che è uno dei principali sottostudio in modo tale da aumentare la resa dal singolo prelievo iniziale in modo tale da evitare il ricorso continuo per effettuare dei prelievi all'animale naturalmente non è semplice però ci sono grossi avanzamenti che stanno andando avanti in questo in quest'ambito qui potete vedere il primo esempio di carne sintetica come viene chiamata in alcuni articoli io la chiamo carne coltivata o carne a base cellulare giusto per dare la dignità a questo prodotto e non confonderlo con qualcosa di chimico che come vi ho spiegato questo prodotto non è e questo è Mark Post un professore dell'università di Maastricht che ha nel 2013 presentato alla stampa il primo hamburger prodotto nel laboratorio quindi utilizzando le cellule staminali ha creato questo hamburger e questo è il costo che è stato stimato per la creazione di questo prototipo è una cifra spropositata però stiamo parlando di dieci anni fa e questo evento è stato veramente uno shock a livello globale perché è la prima volta che si è vista un prodotto che è carne che è stato creato senza uccidere un animale i costi sono questi inizialmente naturalmente col tempo i costi scendono e la prospettiva di farli scendere ulteriormente una volta che il prodotto potrà essere commercializzato a scala più larga dove si trova attualmente? Si trova a Singapore è l'unico paese al mondo che ha dato finora completato tutto il processo di approvazione c'è un ente che si occupa di valutare nuovi cibi e nel 2020 ha dato l'approvazione all'utilizzo della commercializzazione di questa carne attualmente c'è un ristorante che la vende dove si può andare a mangiare una specie di crocchetta di pollo diciamo crocchetta di pollo e il costo vedete è questo circa 4 crocchette a 20 euro capite che in scala il prezzo è sceso moltissimo e oltre a Singapore dov'è che questa tecnologia sta andando molto avanti sta andando molto avanti in Israele Israele è un paese notoriamente attento agli sviluppi tecnologici e questa attenzione è basata sul fatto che a livello territoriale ha delle limitazioni e la cosa interessante dell'Israele è che investendo in generazioni in tecnologia riescono a creare delle soluzioni a dei problemi che è quello che dovremmo fare anche noi prendere come esempio l'esempio di Israele perché è la strada da seguire se vogliamo guardare veramente a un domani in modo più ottimistico in Israele il processo di approvazione non è ancora stato completato comunque ci sono diverse start up e una di queste ad esempio produce a uno stabilimento che produce circa 500 kg di carne coltivata al giorno l'altro paese che sta investendo molto sono gli Stati Uniti e qui ci sono due start up upside food e good meat che hanno ricevuto la pre approvazione da parte dell'ente regolatorio degli Stati Uniti e naturalmente anche qui ci sono degli stabilimenti ad esempio upside food ha investito molto ha raccolto molti soldi e li ha investiti nella creazione di questo stabilimento e questo è il quantitativo annulo di carne che riescono a generare siamo ancora naturalmente a livelli di produzione molto bassa siamo gli albori di questo campo non bisogna pensare che tutto è pronto per sfamare l'intero pianeta siamo esattamente agli albori e quando una tecnologia agli albori significa che c'è spazio c'è tantissimo spazio per migliorarlo la domanda che naturalmente tanti si pongono è questo prodotto è sicuro? si può mangiare senza avere problemi? questo è stato un argomento che è stato preso subito già agli albori in considerazione dalla FAO dalle Nazioni Unite per valutare aspetti di sicurezza di questo cibo questo è un report che è uscito un mese fa è stato pubblicato un mese fa dalla FAO e questo report valuta tutti gli aspetti potenziali di sicurezza di questo di questo nuovo prodotto e le conclusioni sono che questo prodotto è sicuro ha potenzialmente anche meno problemi a livello di zonosi quindi di infezioni a livello di presenza di derivati di pesticidi a livello di presenza di antibiotici e così via ha molti meno problemi rispetto a carne di tipo tradizionale quindi non siamo ancora diciamo alla fine del processo siamo appunto solo all'inizio però le considerazioni e le cose positive associate a questo questo campo sono molte quali sono le sfide e le opportunità le sfide principali di cui mi sto occupando io sono le sfide a livello tecnologico dobbiamo trovare cellule che crescono meglio che possano dividersi e produrre ancora più carne da una singola biopsia quindi questa è una sfida l'altra sfida è produrre le sostanze per far crescere le cellule con prezzi ancora più bassi adesso si usano prodotti vegetali per far crescere le cellule quindi e questo campo si sta sviluppando molto perché è fondamentale per avere dei prezzi bassi che possano permettere una commercializzazione più estesa del prodotto quindi l'altro problema grosso da prendere in considerazione è quello di tipo economico il prodotto ancora è costoso non è paragonabile al prodotto tradizionale però come sappiamo i telefonini le televisioni quando sono uscite costavano tantissimo adesso tutti hanno telefonini e televisioni e i prezzi proporzionalmente sono calati moltissimo e questo ci si aspetta che possa accadere anche qui poi bisogna migliorare a livello di comunicazione e a livello sociologico capire come un prodotto di questo genere possa essere accettato questo prodotto non è una forzatura è un'opportunità che può essere presa o meno a seconda di quelle che sono le diciamo le inclinazioni anche individuali ha delle valenze molto buone a livello di inquinamento e rilascio di gas serra qui si per produrre carne coltivata si usa meno terreno si usa si produce meno gas serra quindi si produce meno acidificazione del terreno e così via e io vorrei giusto finire con questa diapositiva in cui si parla di dibattito informato sulla carne coltivata questo è quello che serve non bisogna creare contrapposizioni bisogna mettersi a un tavolo e discutere parlare di quali sono i vantaggi di quali sono gli svantaggi di quali sono le problematiche di quali sono le aspettative che abbiamo noi per il nostro pianeta tra 20 anni tra 30 anni ben consci del fatto che se procediamo come stiamo andando adesso ci saranno veramente grossi problemi magari non per chi ha 60 70 anni adesso ma per i nostri figli per i nostri giovani cosa vogliamo lasciare a loro un qualcosa che permetta loro di diciamo avere una vita e su questo pianeta che sia confortevole oppure vogliamo lasciare soltanto i nostri danni e lasciare in eredità solo questo e io vi lascio con questa considerazione finale grazie 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 Luciano Michele ti invito a salire perché ovviamente accomoditi pure qui al centro metto laterale perché ovviamente è un tema insomma è un tema molto molto come dire difficile impegnativo complesso che richiede tempo ci sono questi aspetti di sostenibilità che sono anche questi molto discussi c'è una questione di stigma che vivono anche gli allevatori tutta la filiera della carne che come dire viene in qualche modo prova di si sente responsabile di qualcosa in cui come dire non lo è poi rispetto al lavoro e all'impegno alla tecnologia agli investimenti che vengono fatti quindi è un tema molto complesso e la volontà del festival è quella di cercare di iniziare questa discussione perché è una quindi quello che vorrei fare questa premessa per aprire alle domande se ce ne sono se no vorrei chiedere io due cose c'è una domanda se non già domande magari salve io volevo fare una domanda al dottor professor Conti allora prima mi è saltato un dato parlava di allevamento intensivo 14,5% i gas serra ad esempio però non si parla di allevamento estensivo che non è allevamento intensivo che però è il primo driver di deforestazione al mondo in Sud America Centro Africa Sud Est Asiatico quello concorre pure alla produzione di gas serra e all'impatto ambientale il pascolo eccetera quindi magari ecco questa cosa qui però siccome anche io faccio comunicazione in questi termini ma mi capita spesso di dover affrontare delle domande da parte di persone che si guardano la carne coltivata soprattutto allevatori o persone che comunque stanno all'interno dell'ambito dell'allevamento secondo lei c'è modo possibilità e come in che termini di far vedere a chi lavora in ambito allevatoriale zootecnico la carne coltivata non come un nemico da combattere cosa che come abbiamo visto col diretti e via dicendo sta facendo purtroppo in maniera poco scientifica mi viene da dire come far se ci sono delle prospettive di collaborazione tra la produzione di carne coltivata e il mondo dell'allevamento nel pratico magari in un futuro sì per quanto riguarda la prima precisazione sono d'accordo in pratica quel dato comprendeva tutto il reparto dell'allevamento e soprattutto l'allevamento dei bovini e suini che concorre a quel dato per quanto riguarda invece il secondo aspetto sono d'accordo infatti ho finito cercando di aprire a quello che deve essere un dibattito informato quindi si deve discutere si deve capire quali sono le necessità quali sono le opportunità e quali sono gli sviluppi e le strategie che vogliamo mettere in atto e sicuramente devo dire che ad esempio nell'ambito del nostro settore di ricerca in carne coltivata ci sono anche dei macellai delle grosse macellerie che ci hanno contattati perché sono interessati a capire a vedere se ci sono opportunità per loro e quindi affiancare un prodotto tradizionale che ha tutte le sue caratteristiche ottime quindi non è che si vogliono eliminare prodotti tradizionali bisogna creare alternative in modo tale da poter guardare avanti quindi il prodotto tradizionale non è che è osteggiato anzi deve essere protetto e deve esserne veramente esasperata la qualità perché su questo bisogna puntare per i prodotti tradizionali ma a fianco a questo ci sono opportunità anche per chi adesso nel settore della carne tradizionale che possono essere sviluppate e prese in carico nei prossimi anni nel campo della carne coltivata prego sì susa salve a tutti senta io cerco di essere un po' più chiaro possibile e mi rendo conto che è un tema che io ho in mente da 50 anni l'idiozia dell'uomo fa sì che comunque non riesce assolutamente gestire questa crescita idiota e perché si starebbe molto meglio 2-3 miliardi al mondo che stiamo correndo verso gli 8 miliardi e di più quindi non sarebbe bene che invece continuiamo a rincorrere gli sistemi per sfamare e rovinare il pianeta sarebbe ottimale cercare delle forzature su quei paesi che comunque prolificano più di quanto potrebbe essere possibile la ringrazio qui chi vuole provare è un po' dura dunque posto che la domanda ha una base assolutamente sensata e purtroppo devo dare una brutta notizia corriamo già verso i 9 perché gli 8 li abbiamo già passati però adesso fuori dalla battuta il tema del controllo della crescita demografica purtroppo sconta sia questioni etiche culturali religiose non poco importanti ma sconta anche un elemento probabilmente intrinseco all'affermazione della nostra specie sul pianeta noi da quando abbiamo scoperto l'agricoltura abbiamo iniziato una crescita esponenziale meglio da quando abbiamo scoperto l'allevamento perché sfatiamo anche una cosa oggi abbiamo molti approcci animalisti nel senso dell'antispecismo che come dire tendono a narrare una realtà contemporanea nella quale nonostante tutto il progresso scientifico culturale tecnologico noi ci ostiniamo a sfruttare gli animali in realtà questo è sicuramente vero per alcuni aspetti sull'oggi ma non è rispettoso della storia perché noi oggi abbiamo tutto questo progresso culturale scientifico e tecnologico perché abbiamo sfruttato per 15-20 mila anni di animali se leggete Jared Diamond non sto dicendo nulla di innovativo o da premio Nobel se leggete Jared Diamond lui la risposta alla domanda come mai voi occidentali avete così tanto cargo alla fine la individua in questo in ragioni sostanzialmente casuali logistico geografiche e di fortuna cereali che non perdevano il chicco e animali grandi che non siamo riusciti a estinguere come hanno fatto i nostri colleghi con i gliptodonti nel Sud America e siamo riusciti a domesticare e quindi ne abbiamo sfruttato la forza abbiamo moltiplicato le nostre possibilità abbiamo così inventato l'agricoltura da lì abbiamo fatto partire la nostra complessificazione della società e così siamo arrivati fino all'oggi il problema è che a un certo punto e questo è Robert Tainter che lo teorizza nell'88 tu continui ad aumentare la complessità continui ad aumentare i tuoi numeri ma il vantaggio marginale che è quello che il Signore con la sua domanda rappresentava comincia a venire meno quando sono stati introdotti i primi farmaci sul famidici e prima ancora la penicillina abbiamo visto un risultato di carattere esponenziale nell'aumento di vita media delle persone oggi parliamo di mesi in media all'anno questo succede per tutti gli aumenti di complessità tutti i nostri aumenti di complessità però si fondano sull'aumento di complessità dovuto a allevamento e agricoltura tutto ciò che è venuto dopo da Michelangelo alla bomba atomica per cui noi oggi siamo in una situazione storica che impone di ripensare il nostro rapporto col pianeta anche in termini di contenimento della demografia al di là di ogni rispetto per le fedi di ciascuno ma dall'altra parte anche con la consapevolezza che dove siamo oggi è un punto a cui ci ha portato una interazione ben precisa col pianeta che si è basata su allevamento e agricoltura ma il primo è eziologia del secondo i posti dove hanno anche sviluppato dell'agricoltura ma non avevano grandi animali non hanno visto una complessificazione della società perché non c'era niente che poteva tirar l'aratro perché non c'era chi poteva coprire le distanze perché non c'era l'animale che poteva essere veramente un pezzo della casa dunque credo che sia necessario su questo riflettere molto perché ho tutto il mio scetticismo forse è difficile interrompere la strada intrapresa però se c'è una speranza di interrompere la discesa verso il baratro è nella consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di come ci siamo arrivati senza quella consapevolezza facendo finta che ogni giorno sia un foglio bianco che questa sia l'ultima generazione ma non si sa da dove sia arrivata non vedo la possibilità veramente di incidere sui meccanismi che ci hanno portato fin qui c'è un'altra domanda ancora nell'ambito della carne coltivata una domanda per Luciano Conti adesso la carne che viene macellata dagli animali ha diverse proprietà organolettiche al di là dei diversi tipi di animali anche proprio dai diversi tagli quindi la percentuale di muscolo grasso e tessuti connettivi e in che modo ha lavorato il muscolo nel corso degli anni di vita dell'animale la carne coltivata riuscirà per quello che è possibile sapere adesso anche a lavorare in questa direzione per cui riuscire a riprodurre un filetto invece che un costato invece che eccetera eccetera diciamo abbiamo appunto detto che il settore è all'inizio è un settore che vedrà nei prossimi anni un'esplosione a livello tecnologico prendendo anche conoscenze che sono state sviluppate ad esempio nella stampa 3D dei prodotti vegetali in cui si riesce a dare proprio una strutturazione tridimensionale con fibre orientate nel modo corretto a depositare in modo specifico muscolo e grasso quindi diciamo al momento no quello che è stato creato ad esempio è stato un prototipo di filetto da 100 grammi da una start up israeliana però diciamo che quello che si prevede è che negli anni futuri si possa arrivare anche a avere dei tagli più complessi realizzati seguendo quella che è la bioingegneria tessutale quindi stampa 3D e materiali da usare come tessuto connettivo che possano emulare quanto presente nei diversi tagli c'è ancora una domanda qui davanti prego prego non vedevo salve buonasera ho anch'io una domanda dal punto di vista biologico perciò per il professor Conti cercando di ricordare qualche rudimento di culture cellulari ricordo che dal momento in cui si fa una cultura servono come anche ha nominato prima dei terreni di cultura bisogno di fattori di crescita di qualcosa che ricordo ma magari sono ferma qualche anno fa essere di origine sempre animale qualche brodo qualche scarto di macellazione dei sieri sempre dovuti sempre estratti da esemplari la mia domanda era sono ferma nel passato e adesso c'è qualcosa di sintetico che si è sostituito o si è sempre connessi al ramo della macellazione e all'animale in generale di più che solo la biopsia posso aggiungerti una domanda a questa la questione degli ormoni per la crescita in questo tipo di carni è una questione oppure è fumo negli occhi del dibattito così la aggiungiamo alla domanda sì allora inizierei appunto dalla domanda dalla platea dicendo che il siero bovino fetale di cui si parlava forse quello il prodotto a cui stava riferendo che veniva estratto dal siero dei bovini prima della nascita e è un prodotto che adesso non è è utilizzato poco in ambito di ricerca io oltre a un progetto sulla carne culturale mi occupo di cellule staminali per la produzione di neuroni per studiare questa tipologia di cellula per dopo andare a valutare farmaci andare a studiare malattie e lì il siero non si usa per nulla si usa solo prodotti che sono di natura biotecnologica quindi prodotto da alcuni anche da semi di grano da germogli di grano e quindi giusto per dire che la ricerca in questi ultimi anni è andata avanti utilizzare siero fetale bovino è costoso diciamo può essere anche antietico perché si fa utilizzo sempre di una vita animale però ci sono le alternative queste alternative sono già presenti e sono quelle che verranno perseguite nell'ambito della produzione di carne coltivata per quanto riguarda gli ormoni allora diciamo che in in ambito zootecnico gli ormoni venivano dati in surplus agli animali perché un organismo produce gli ormoni gli ormoni sono importanti se non avete l'insulina che è un ormone avete un problema se avete delle carenze a livello di ormoni tiroidei o di corticosteroidi ci sono dei grossi problemi quindi noi tutti abbiamo ormoni e quando c'è una disfunzione una prima cosa che si va a vedere è che se i livelli di ormoni sono giusti oppure sbagliati quindi non diciamo che gli ormoni fanno male gli ormoni vanno utilizzati alla concentrazione giusta quindi alla dose giusta per fare quello che devono fare ad esempio nei nostri tessuti normalmente in zootecnia veniva usato impropriamente e anche in alcuni paesi si usa ancora somministrare ulteriori ormoni per far crescere di più gli animali creare quindi delle condizioni patologiche negli animali perché si espongono a elevate concentrazioni di ormoni che alla fine creano magari fanno crescere di più il muscolo però creano problemi ad altri organi dell'animale e nell'ambito della carne coltivata vi ho detto che le cellule nei bioreattori crescono come crescono nei tessuti quindi servono gli ormoni però serve il quantitativo giusto e non se ne dà di più di più non va bene perché crea dei danni alle cellule per cui gli ormoni servono però vengono altamente controllati come ogni prodotto che viene inserito all'interno del ciclo produttivo è altamente controllato e l'altra cosa da dire è che alla fine quando si ha l'assemblaggio del prodotto si hanno dei processi che eliminano anche potenziali surplus di potenziali diciamo fattori di crescita o ormoni residui quindi si possono anche eliminare in modo molto efficiente ed efficace avere un prodotto pulito e sano c'era forse una domanda ancora qui davanti due forse mi vedo ve lo puoi chiedere ancora qua abbiamo pochi minuti ma buonasera volevo sapere per quanto riguarda i sistemi di allevamento di questi animali dovranno sottostare a requisiti igienici e sanitari particolari o potranno essere anche animali allevati allo stato brado tranquillamente così di animali da cui è prelevata fatta la biopsia dici ok sono animali che non vengono cresciuti in allevamenti intensivi abbiamo visto che basta prelevare pochissimo pochissimo materiale per avere 5.000 chili di carne e anzi le start up che stanno realizzando questi prodotti i primi prodotti a base di carne coltivata alcuni di questi fanno vedere addirittura l'animale da cui sono partiti hanno dato un nome a quell'animale fanno vedere dove vive quest'animale fanno vedere quali sono i compagni di questo animale quindi si abbatte notevolmente l'utilizzo di animali si fa un solo prelievo ogni tanto che non crea neanche grossi problemi dal punto di vista della sofferenza dell'animale è come quando si fa una puntura quindi avere degli animali anzi che crescono in condizioni di libertà e migliore welfare anzi è un dato sul quale le start up puntano molto ci sono due domande qui davanti prego per quanto riguarda l'adozione di strategie di comunicazione in relazione alla carne coltivata è vero che il dibattito informativo cioè informare su queste cose è utile però sappiamo che per l'adozione dei comportamenti non è sufficiente sapere che la carne coltivata riduce l'impatto ambientale è sicuro eccetera ma ci sono dei valori alla base su quali leve o su quali valori possiamo lavorare nella popolazione generale per favorire una maggiore adozione di questa tecnologia dal mio punto di vista visto che poi questo livello culturale è quello che determina il punto di contatto a cui mi riferivo prima cioè tra quello che è la società che vorremmo modellare quella norma e quello che per la società è accettabile in quanto norma se non si trova il punto di contatto poi si impongono norme che non fanno cambiare la società in meglio oppure si impongono norme che poi la gente non rispetta semplicemente perché non è pronta per dal mio punto di vista quello su cui bisogna lavorare è decisamente la neofobia a livello globale del nostro paese in particolare ma direi in generale dei paesi avanzati di cui l'Italia fa parte perché c'è una diffusa tendenza che ha delle precise matrici culturali ma non ha uno stratega dietro e che si appoggia sul nostro timore antropologico per il nuovo il che dico sempre ci ha salvato qualche volta quando eravamo appena scesi dagli alberi però poi oggi ci porta dei danni importanti per cui se riusciamo a lottare contro la neofobia al tempo stesso facendo finalmente comprendere alle persone che possono confidare nei meccanismi del controllo nei meccanismi della sorveglianza nella responsabilità della scienza allora possiamo ottenere anche una diversa predisposizione perché le statistiche di oggi ci dicono che la maggior parte delle persone della tua generazione o più giovani ancora di te sono disponibili ad assaggiare a consumare la carne vegetale la 3.0 oppure la carne coltivata esattamente io mi ascrivo a loro non perché giovane purtroppo ma perché non sento forte la pressione neofobica perché i giovani non sono neofobici purtroppo statisticamente insieme al colesterolo e ad altre disfunzioni meno ancora piacevoli negli uomini aumenta la neofobia con il tempo e c'è soltanto un forte lavoro educativo non scolastico ma long life di long life learning che può aiutare a essere meno inclini verso la neofobia perché purtroppo invecchiando diventiamo tutti neofobici quindi la maggior parte della popolazione è neofobica e è inevitabile che lo sia perché la maggior parte della popolazione è vecchia se fossimo l'Iran non sarebbe così perché la maggior parte della popolazione è giovane però hanno altri problemi i vecchi che sono pochi tengono il potere in maniera estremamente efficiente quindi secondo me bisogna lavorare contro la neofobia e bisogna cominciare a farlo dalle scuole ma poi bisogna continuare a farlo in maniera long life posso approfittare prima perché questo mi dà la sponda per un ragionamento sono d'accordo con te è ovvio che la neofobia può essere un tema però è anche vero che magari in sistemi socio-industriali quindi da un lato ci sono un asset del paese e dall'altra parte che magari non è in Iran ecco come produzione di carne come un esempio qui in Italia può essere molto problematico in maniera molto problematica l'entrata di come dire di una nuova tecnologia che può essere come dire molto dirompente sull'attuale sistema e questa è una delle preoccupazioni per rispondere a tua domanda io credo che come favorire poi alla fine si può fare cultura questa è una mia nota pessimistica poi se vince soltanto il prezzo quella qualità che poi anche la filiera tradizionale potrebbe fare insomma va a discapito insomma quindi la domanda è anche questa come si fa è molto dipende dal punto di vista che assumi il decisore politico o l'imprenditore in un sistema come questo può sentirsi preoccupato andiamo a vedere voi avete potete darci qualche informazione su come sta cambiando il mondo degli investimenti su questa filiera il fatto che comunque ecco il lavoro nuovo vuol dire anche che nuovi finanziatori sono arrivando nuovi player mondo farmaceutico potrebbe diventare un produttore al 2025 l'aspettativa è che il mercato mondiale delle alternative alla carne che sembrano carne adesso le metto tutte assieme quindi sia vegetale che culture laddove la culture ormai è 0,0% perché è autorizzata in così pochi posti che è sostanzialmente tutto vegetale rispetto al 2020 è un valore doppio da 4 miliardi di dollari di valore a circa 8 miliardi ma al valore globale e al valore globale soprattutto con un driver secondo le analisi più accreditate che sono facilmente reperibili il driver sono gli anziani che vogliono mangiare roba che sembra carne ma che tenga tranquillo il medico che gli ha proibito la carne rossa quindi sostanzialmente la gente che vuole grigliare con la sensazione del grigliare quindi per loro l'eme di origine genetico modificata è fondamentale altrimenti non c'è il gusto della carne senza poter più grigliare perché il medico gli ha tolto gli ha tolto l'ordine di farlo a me sembra una grande superfettazione se devo dire io sono un po' mi ispiro molto da Gabriele Bernardini cioè se vuoi se devi mangiare vegetale mangia vegetale cioè non fai fare sti giri immensi per poi arrivare a mangiare vegetale però riconosco che è importante lavorare sulle possibilità di alternative per due motivi uno perché siamo in una società che in cui la libertà individuale è tuttora un pilastro e non vogliamo diventare l'Iran secondo elemento perché c'è effettivamente un mondo là fuori che se oggi solo il 23% delle totale delle proteine viene da fonti animali e il 77% dei vegetali non è perché noi siamo bravi è perché noi mangiamo a sfare proteine animali mentre ci sono paesi dove le proteine animali sono nell'ordine di 4 kg di carne all'anno grossa Africa sub-equatoriale ma anche grossa India grosso sud-est asiatico ora se questi soggetti legittimamente in un mondo globalizzato esattamente come stanno dicendo altre cose rispetto all'inquinamento dicono eh vabbè ragazzi però voi siete fatti tutte le costate del mondo adesso ci venite a dire che noi non possiamo più perché stabiliamo diciamo imperativamente che devono calare il consumo di proteine effettivamente avere delle alternative che siano più sostenibili può far parte di una fase di transizione io mi auguro rispetto a un modello educativo alimentare globale che dica che dobbiamo scendere nel fabbisogno di proteine di origine animale anche perché ce lo dicono appunto come ha ricordato molto onestamente il professor Conti tutte le linee guida nutrizionali cioè noi non abbiamo nessuna esigenza di aumentare proteine eppure se ci fai caso Emanuele Emiliano siamo ricoperti di pubblicità che ci parla di roba proteica quindi ci sono delle distorsioni importanti in tutto questo e secondo me un dibattito equilibrato in cui la neofobia non sia un problema ci permette anche di ragionare di alternative ma siccome non cerchiamo il bianco il nero la formazione di un sistema o di un altro possiamo trovare più facilmente un equilibrio anche maggiormente sostenibile Luciano visto che tu lavori anche in una start up colato investimenti stai notando che sta cambiando anche lo scenario degli investitori di chi sta investendo in queste tecnologie sì allora negli ultimi due anni sono aumentati tantissimo gli investimenti in questo settore sono investimenti che hanno permesso ad esempio di creare alcune start up degli stabilimenti a 50 milioni di euro con grossi bioreattori che gli permettono di essere pronti per entrare in produzione qualora il loro prodotto venga approvato e ancora naturalmente siamo agli inizi dal punto di vista personale posso dire che io collaboro con Bruno Selk che è appunto questa start up l'unica in Italia che si occupa di carne coltivata e siamo stati avvicinati anche da alcune ditte abbastanza grosse che vedono in questo prodotto un'opportunità di sviluppo anche economica nel futuro e purtroppo quella che è la regolamentazione italiana crea un po' di destabilizzazione anche nell'interfaccia con queste persone ricordo che è necessario investire in ricerca soprattutto a questo livello per avere qualcosa che sia migliore dopo quindi i soldi servono adesso le strategie per entrare e dire la propria sono adesso che devono essere messe sul tavolo e dal punto di vista del pubblico non ci sono risorse ce ne sono poche in generale stiamo vedendo che purtroppo ci sono tante emergenze che stanno attraversando il nostro paese lo colpiscono e bisogna reagire a queste emergenze però bisogna anche ragionare in strategia e forse fare partnership con i privati che sono interessati a finanziare e ad aiutare un qualcosa mettendo anche dei vincoli magari che le conoscenze i brevetti che si faranno adesso potranno dovranno essere anche condivisi per permettere a chi non ha le risorse di poter utilizzare questo prodotto sono tutte diciamo dei passi che bisogna fare adesso e purtroppo nel nostro paese parlare di queste cose come non lo so parlare del diavolo non si vuole fortunatamente qui non si può fare mi sembra già un grande risultato sono delle arene come queste che permettono veramente di discutere in modo civile però con in televisione questo veramente è molto raro bene c'erano altre domande sicuramente se Michele che Luciano sono disponibili a rispondere perché adesso abbiamo un altro caso anche semplice come il caso Silella quindi come dire non mancano gli argomenti io ringrazio Luciano Conti e Michele Fino grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.